A 11 anni dalla firma in Regione Lombardia e 3 dall'inizio dei lavori, lunedì 14 gennaio 2013 è stato inaugurato il nuovo campus universitario dal Politecnico di Lecco, con un investimento di 51 milioni di euro, recuperando e riqualificando l'area dell'ex ospedale in via Ghislanzoni, prende vita un progetto che mira creare sinergie tra il mondo universitario, quello della ricerca grazie alla presenza del CNR e il tessuto produttivo della città. Questo nuovo campus in cui il Politecnico sperimenta il modello universitario del futuro, spiega il Rettore Giovanni Azzone, deve essere esempio per tutta l'Italia sulla via da prendere per uscire dalla crisi, sinergie tra tecnologia e arte, tra ricerca e impresa, innovando e unendo gli sforzi e le capacità. Il Polo Universitario Lecchese, nato nel 1989, si arricchisce di una struttura che si sviluppa su una superficie di oltre 30 mila metri quadrati, con un recupero di 5 mila metri quadrati di edifici già esistenti. Negli edifici realizzati con materiali in gran parte riciclabili e alimentati esclusivamente da energia pulita, si trovano 27 aule con 1795 postazioni per studenti, 20 laboratori, 5 sale riunioni, una biblioteca, una sala lettura, 40 uffici per docenti e personale, depositi e segreterie, oltre a 100 posti auti e spazi ristoro. Dobbiamo fare di tutto, commenta Vico Valassi, presidente della Camera di Commercio di Lecco, affinché università, ricerche e imprese lavorino insieme. Questa è l'unica via per dare un futuro alla nostra città. Il lavoro non è però escluso. Fra qualche anno completeremo le residenze per studenti e ricercatori, mentre nel frattempo cercheremo di portare in questa struttura anche il centro ricerche dell'INAIL. Attualmente il polo di Lecco del Politecnico di Milano ospita circa 1600 studenti, di cui il 20% proveniente dall'estero. Il nuovo campus è dimensionato per 2000 studenti. La didattica verrà spostata nel nuovo campus a partire dai mesi di giugno a luglio, mentre il CNR sbarcherà in città tra due anni. Nel polo Lecchese del Politecnico viene già effettuata ricerca all'avanguardia nel campo della nautica con il progetto Lecco Innovation Hub, della protezione civile e pubblica, della riabilitazione della disabilità, dei dispositivi per lo spazio e di sistemi ottici innovativi. Verranno inoltre finanziate attività di ricerca nell'ambito della meccanica e dei materiali per le energie rinnovabili, delle tecnologie ottiche e della fotonica, del recupero e sulla sostenibilità degli edifici. Regione Lombardia è l'anima di quest'opera che ha contribuito a finanziare. Dal Pirellone infatti sono stati stanziati 23 milioni di euro per il campus universitario, 900 mila euro per le opere stradali, un milione di euro per il polo espositivo museale, 1,7 milioni di euro per la residenza universitaria.